le vicende societarie del torino non intaccano dunque la fede dei supporters granata anzi c'è chi prima dell'incontro ha anche voglia di scherzare e approfitto dell'occasione per salutare i colleghi Enrico Meri Provenzali e l'ultima Messina e tutto lo studio per Bertoluzzi chi intende far sul serio è invece Giordano al quale i giocatori Granata e non certo per viltà opposero il gran rifiuto ma rinunci non ci sanno io gioco per l'Ascoli cercheremo di fare il risultato per la classifica dell'Ascoli non ci sono rinunci sarà come dice lui ma l'ex partenopeo sfodera nella circostanza la più bella prestazione degli ultimi tempi e dopo appena sette minuti inventa il tiro sul quale una maligna quanto tempestiva deviazione forse di Zevectovic interviene a mettere fuori causa Lorieri ecco Giordano che prova a vestire i panni di sassi io ho tirato non lo so in corso mi sembra che qualcuno l'abbia sfiorata però non è che che abbia cambiato più di tanto la la traiettoria poi il torino che aveva appena assestato le marcature e che si presenta l'appuntamento privo dello squalificato scoro e dell'infortunato comi vacilla i bianconeri trovano ampi spazi nelle maglie della difesa granata in evidente stato di shock e dilagano Lorieri salva su dall'olio poi a un continuo tambureggiare bianconero con una sola squadra in campo l'Ascoli che non riesce però a matare il toro potrebbe farlo Fontolana al quarantesimo ma Benedetti salva dicono arbitro e Giordano se il segnalino non l'ha dato vuol dire che il 99 per cento ha visto bene lui consegnato l'episodio alla moviola appena il tempo di registrare un tiro di edu il più efficace dei suoi e si passa al secondo tempo tutt'altra musica il torino risorge e mette sotto l'Ascoli spesso in affanno Pazzagli fa gli straordinari e se non li fa lui ci pensa la traversa su deviazione di Bresciani ma il toro a testa bassa carica solo al centro e l'Ascoli tiene botta ma anche questa è un'opinione sua personale d'altra parte era una squadra che ci ha coperto abbastanza bene queste fasce laterali abbiamo cercato di sfondare in mezzo chiaro che è difficilmente più difficile sfondare centralmente che non sulle fasce laterali si sprecano le occasioni per i Granata ma sono imprecisi e l'Ascoli probabilmente con pieno merito conduce in porto tra inenarrabili e divertentissime sofferenze di Rozzi un successo che vale davvero oro i cinque minuti concessi di recupero dall'arbitro consegnano alla Moviola un atterramento di Zavektovic apparso ai più del genere rigore sacrosanto ma non a Magni. Ma è una grossa sofferenza perché col primo tempo potevamo benissimo chiudere come minimo 2 a 0 purtroppo invece il secondo tempo è stato un terribile non finia mai sto tempo e l'abbiamo fatta sai il fatto di siamo un po' sempre preoccupati perché in casa non abbiamo avuto mai successo e allora abbiamo tanta paura.